Ancora bocconi killer ad Anghiari, altri due cani sono stati ritrovati senza vita. Non si tratta infatti di un caso isolato. Nella cittadina della Valtiberina a Retina, nelle ultime settimane si erano registrati vari casi di ritrovamento di polpette avvelenate. Lo scorso 30 gennaio era stata la proprietaria di Napoleone a denunciare tramite social network la morte del suo amico a quattro zampe dopo aver ingerito un boccone avvelenato e adesso altri due cani sono morti, molto probabilmente anche loro vittime di esche. Si tratta di due esemplari, un maschio ed una femmina di Segugio Italiano, entrambi dello stesso proprietario. L'uomo ieri mattina aveva portato a spasso i suoi cani nei pressi di Tortignano quando probabilmente i due hanno ingerito i bocconi avvelenati e si sono sentiti male. Il proprietario li ha così immediatamente portati dal veterinario ma la corsa è risultata vana. Uno dei due cani è morto lungo il tragitto e l'altro poco dopo appena arrivato all'ambulatorio. Sui due animali adesso saranno svolti accertamenti per sapere quale sia stata la sostanza letale ingerita. Ma dopo i nuovi ritrovamenti a Denghiari dove tra l'altro era stata organizzata una camminata antipolpette alla quale avevano preso parte anche i carabinieri forestali con le unità cinofile torna l'allarme. L'appello non può essere che quello alla massima attenzione.